Credete di conoscere bene i gatti? Magari alcuni di voi stanno guardando questo video con un micio sulle gambe, pensando di essere dei massimi esperti per quanto riguarda le specie peline. Ma vi assicuriamo che oggi metteremo in discussione tutte le vostre certezze con una carrellata di gatti dall'aspetto inusuale. Questi cuccioli più unici che rari vi ricorderanno che madre natura ha sempre un asso nella manica. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per scoprire quanto possono essere strani questi nostri amici felini. Numero 10. Raven Quando la piccola Raven è nata, la sua famiglia umana l'ha messa in adozione per paura di non riuscire a prendersi cura dei suoi bisogni. La gattina infatti è venuta al mondo con una malformazione alle zampe posteriori, che le impedisce di camminare correttamente. A causa della paralisi, anche i veterinari temevano che Raven avrebbe avuto una vita triste e difficile e hanno consigliato agli operatori del rifugio di mettere fine alle sue sofferenze. Per fortuna una donna di nome Marlene si è offerta per adottarla, regalando alla piccola Raven una vita piena di soddisfazioni. Non potrà camminare come i suoi fratelli, ma è vivace e giocosa come qualunque altro micio. Numero 9. Stubbs L'Alaska nasconde un segreto di cui i po' sono a conoscenza. Il gatto che state guardando non è un felino come tanti, ma il primo cittadino di un paese arroccato tra i ghiacci. O meglio, lo era. Per vent'anni i cittadini di Talchitna sono stati governati da un sindaco a quattro zampe. Stubbs ha ricoperto la carica tra il 1997 e il 2017, anno del suo decesso. Era un'attrazione popolare non solo per i locali, ma anche per i turisti che facevano tappa a Talchitna solo per conoscere il sindaco Micio. Anche se non ha mai firmato una delibera, Stubbs visitava il ristorante di paese ogni sera dove gli veniva servito un bicchiere d'acqua con infuso di erba gatta in un calice da margarita. Forse non avrebbe dovuto bere in servizio, ma dopo la feroce campagna elettorale che lo ha portato alla vittoria nel 1997, i suoi cittadini hanno deciso di comune accordo di chiudere un occhio. Numero 8. Sprinkles. Da un sindaco che beve in servizio ad una gatta che può mangiare tre volte il suo peso netto. Vi presentiamo Sprinkles, che ha ridefinito il concetto di gatto soprappeso anche per gli esperti. Sprinkles pesa 13 kg, tre volte il peso ideale di un micio adulto. Prima di giudicare le sue abitudini alimentari, però, dovreste conoscere il suo passato. La gatta è stata salvata da una squadra di volontari che l'ha trovata tutta sola in una casa abbandonata. Era tanto tempo che viveva senza un proprietario umano e aveva dovuto imparare ad adattarsi alle circostanze. Tuttavia, senza una persona che si prendesse cura di lei, Sprinkles aveva assunto una dieta problematica, che gli stava causando gravi problemi cardiaci. I veterinari le hanno diagnosticato anche casi severi di pulci, zecche e abrasioni da urina sul sedere, causate dall'impossibilità di pulirsi correttamente per via della sua stazza. Per fortuna, una squadra di medici esperti ha elaborato una dieta ferrea per Sprinkles, che sta lentamente perdendo il peso in eccesso e presto tornerà in buona salute. Numero 7. Creature. Creature è uno dei gatti più strani che vedrete in vita vostra. Questo simpatico micio è nato infatti con quattro orecchie. Aveva solo sei mesi quando è stato portato in un rifugio per animali del New Jersey, dove i veterinari hanno notato il paio aggiuntivo di orecchie. Creature è arrivato nella struttura assieme a due fratelli, ma nessuno dei due presentava la sua stessa peculiarità. Purtroppo Creature ha da subito mostrato grande difficoltà ad usare tutte e quattro le orecchie. Oltre alla sordità, il poveretto esibiva un ritardo mentale e sembrava soffrire di vista annebbiata. Non riusciva a seguire i suoi fratelli nei movimenti o nel gioco, e per questo veniva spesso escluso dagli altri gatti del rifugio. Nonostante le difficoltà, ha potuto comunque vivere una vita serena grazie ai suoi fan di Facebook e l'hanno sostenuto fino al decesso nel 2019. Numero 6. Gatto a tre code. Avete sicuramente sentito parlare delle nove vite dei gatti, ma siamo sicuri che non avete mai visto un micio a tre code. Nel 2017, durante una passeggiata tra le strade di Pechino, due studenti cinesi hanno notato un gatto. Da lontano sembrava un felino come tanti altri, ma quando si sono avvicinati i due ragazzi, hanno capito che si trattava di un esemplare unico. In fide conti i gatti normali hanno solo una coda, eppure quel micio agitava le sue tre codine come una bandiera. Probabilmente diversi scienziati avrebbero fatto a gara per analizzare il felino magico, ma dopo essersi fatto ammirare a distanza, il gatto se l'è data a gambe. Numero 5. Henrietta. Questa invece è Henrietta, la gatta inglese a sei zampe. Alla nascita è stata battezzata Henry perché i veterinari l'avevano confusa per un maschietto. Dopo un ulteriore esame, hanno realizzato non solo che era una femminuccia, ma che aveva due strane protuberanze sullo stomaco. Col tempo i bitorsoli sono cresciuti, sviluppando tessuto muscolare, ossa e persino due zampette. I veterinari hanno capito quindi che Henrietta soffriva di polimelia, una condizione molto rara sia negli umani che negli animali, che si manifesta con la crescita di arti aggiuntivi. È un'anomalia così rara che quello di Henrietta è considerato il primo caso documentato nel Regno Unito. Secondo i dottori è stata causata dalla presenza di un'amicia gemella nel grembo materno, assorbita nel suo corpo durante lo sviluppo. Henrietta ha vissuto una vita serena e piacevole, sia prima che dopo l'operazione di rimozione delle zampette di troppo. Numero 4. Stevie. Per conoscere Stevie, ci spostiamo a Reno, nel Nevada, dove viveva il gatto più lungo del mondo. Nel 2010 questo micio incredibile misurava un metro dalla punta del naso a quella della coda, ed è stato per questo premiato dal libro dei record, con una menzione d'onore. A causa delle sue dimensioni notevoli, per lui era impossibile passare inosservato. Stevie ha lavorato come sostegno terapeutico per le persone affette da stress e malattie mentali, ed è apparso in molti spettacoli teatrali che gli hanno fatto guadagnare la stima del mondo intero. Stevie non ha smesso di crescere dal 2010, ma non è stato più misurato ufficialmente. Si è spento nel 2013, dopo una vita passata sotto i riflettori. Numero 3. Colonel Meow. Potreste riconoscere questo micio come il pelino imbronciato diventato virale nel 2013, ma il suo vero nome è Colonel Meow. I suoi centinaia di migliaia di fan sui social media gli hanno affibbiato ogni genere di soprannome, dal temibile dittatore al gatto più arrabbiato del mondo. È stato recuperato dalle strade di Seattle, Washington, prima di essere legalmente adottato in un negozio di animali. È diventato famoso in tutto il mondo quando il suo nuovo padrone ha condiviso una foto del suo broncio su Facebook. Colonel Meow ha anche detenuto brevemente il titolo di gatto dal pelo più lungo del mondo, con un record di 22 centimetri e costringeva i suoi padroni a lavarlo in continuazione per evitare nodi. Colonel Meow si è spento nel 2014 a causa di una malattia cardiaca. Numero 2. Duo. Come la maggior parte dei gatti, Duo ha quattro zampe, una coda e una testa, ma è nata con un particolare molto inusuale. Due facce diverse. Guardandola distrattamente potreste pensare che si tratti del risultato di una maledizione diabolica, ma Duo è una delle gatte più dolci che potreste incontrare nella vostra vita. La mecia soffre di una condizione rarissima, conosciuta come diprosopus, che si manifesta negli animali con la presenza di tratti somatici peculiari sul muso. Duo, infatti, è nata con quattro occhi, due bocche e due nasi. Anche se la maggior parte degli animali affetti da questa anomalia si spegne dopo qualche ora di vita, Duo è sopravvissuta grazie al veterinario Ralph Tran, che l'ha adottata e amata per anni. Numero 1. Gatti misteriosi. A proposito di gatti dall'aspetto strano, vogliamo concludere questa lista con una delle foto più bizzarre che siano mai apparse in rete. L'immagine risale al maggio 2013 e ritrae un gatto con solo mezzo corpo e due zampe. Subito dopo, gli utenti del web sono stati sorpresi da una seconda foto dello stesso micio, ma stavolta ha dotato di ben otto zampe. Tante persone hanno incolpato le angolazioni problematiche delle fotocamere di Google, mentre altre hanno pensato ad un difetto genetico o ad un gatto di origini aliene. Per il momento il mistero non è ancora stato risolto. Voi cosa pensate di questo micio trasformista? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.